Quando Windows fa lo schermo blu della morte, mi lascia sempre perplesso. Si è verificato un errore nel modulo X, è stato invocato… È STATO INVOCATO! Ma chi è quel disgraziato che l'ha invocato?! Ciao a tutti, sono Grizzly, il vostro tecnico informatico di fiducia, e parliamo la stessa lingua, eh? Quindi se pensate che basti leggere una rivista di informatica per avere un'infarinatura, siete fuori strada! Se pensate che per parlare con un tecnico informatico dobbiate conoscere chissà quale lingua sconosciuta, siete TOTALMENTE fuori strada. Quando vi chiediamo che cosa non funziona nel computer, non vogliamo discorsi astrusi. Vogliamo semplicemente sapere che cosa non funziona come al solito. Semplicemente. Chiaro? No? NO. Mi chiamo al suo cliente, ci vado allo studio. Allora mi dica qual è il problema? Sa, quando effettuo l'anteprima di stampa sul layout di uno spreadsheet, tutta la formattazione subisce uno shift continuo di una colonna, e l'impaginazione esce per righe alterne su pagine random con la numerazione fascicolata. E... poi mi tocca effettuare un'inversione delle righe con i wallet number che mi giampano. Sì, esatto! Dico. Non avete capito niente, vero? Ecco, appunto. Manco io. Ho chiesto al cliente di essere più chiaro, e lui ha continuato così in perterrito per 20 minuti. Poi, quando ho minacciato di sbudellarlo, finalmente mi ha fatto vedere che cosa succedeva, ed ho capito il problema! Volete sapere qual era? Stringere il margine di stampa sul foglio di un paio di centimetri! Vabbè, fatemi continuare. Devo disinfestare con urgenza quel PC? L'altra sera il cliente si è scordato dentro un cd di zucchero, e stamattina il computer era pieno zeppo di formiche! Ciao a tutti e alla prossima!